Salve ragazze, sono Zaira, eccomi qua per il mio nuovo interattivo breve. Andiamo a fare un argomento un po' più leggero. Allora, andiamo a vedere, pensiamo a una persona, pensate a una persona, una persona che ovviamente vi piace. E facciamo la domanda, gli piaccio? Mi chiederà di uscire con lui? Quindi andiamo a vedere se a questa persona voi piacete e se vi chiederà di uscire con lui. Quindi andiamo a vedere con le sibille italiane classiche. Andiamo a vedere se gli piacete. Allora, guardate, questa persona vi manderà sicuramente un messaggio. E sì, gli piacete molto perché vedete qua c'è proprio la carta della riunione, l'incontro galante. Vedete, lui dopo tanto tempo vorrebbe una gran consolazione perché vi dico che questa persona sta soffrendo per un abbandono, per un distacco di una situazione. Quindi adesso se un vostro ex è riferito al vostro ex, se invece non lo conoscete, nel senso non è stato, cioè lo conoscete ovviamente ma non è stato con voi, questa persona è un po' vanitosa, un po' superba, diciamo così, però nasconde che cosa? Nasconde che lui comunque gli piacete tanto, è un po' anche, come dire, un po' dipende da voi, nel senso che gli piacete veramente tanto. Vediamo, gli piacete? Mi piaccio? Vediamo se piacete a questa persona, andiamo a vederlo con i tarocchi. Abbiamo i due di bastoni, abbiamo l'eremita e il tre di coppe. Sì, ragazze, tantissimo. Questa persona sta soffrendo per un qualcosa del suo passato, oppure potrebbe essere un ex che torna. Abbiamo l'imperatore, in ogni caso, voi gli piacete tanto, con voi vuole proprio l'incontro, vi chiederà non solo di uscire, ma qua vi chiederà proprio di fare l'amore. Ok, eccolo qua, guardate, un bellissimo re di spade, segno d'aria, bilancia, gemelli, acquario. Guardate quanto è figo questo re di spade, eh? Attenzione perché è una persona che in questo momento sta soffrendo per un abbandono o potrebbe essere un ex che ritorna, eh? Non lo escludo. Con l'imperatore abbiamo anche i segni di fuoco, ok? In particolare ariete. Fate attenzione perché questa è una persona che non dimostra tanto ciò che prova, però a voi vi desidera tanto. Vedete, abbiamo qui la gran consolazione, quindi vi pensa, vuole ottenere un risultato, ma soprattutto con questa carta del 3 di coppe, vedete, lui vuole proprio avere con voi un amplesso. Ecco, vuole proprio fare l'amore con voi. Quindi, gli piacete? Assolutamente sì. Vi chiederà di uscire con lui? Assolutamente sì. E forse vi chiederà anche qualche altra cosa. E non escludo che potrebbe essere una persona del passato che dopo un momento di pausa torna da voi. Ok, care? Vi ringrazio di essere stati con me. Mi raccomando, cuoricino, like, iscrizione, segui. Un bacione dalla vostra Zahira. Ciao!